Amici cuori nerazzurri, benvenuti all'ennesima puntata, non ricordo neanche più il numero che abbiamo raggiunto, ci sono l'Inter per Re, ovvero per Reggio Emilia. Abbiamo un ospite, questa sera devo dire, abbiamo sempre degli ospiti importanti, ma in modo particolare quest'oggi abbiamo Pierpaolo Zucchetti, che è lo speaker intanto del Basque della Palacanestro Reggiana, che sta onorando al meglio la nostra città da sempre, nei suoi 40 anni di storia, ma in particolare gli ultimi due sono veramente molto importanti, perché ha vinto l'anno scorso l'Euro Challenge, quindi il primo trofeo della sua storia, raggiungendo inoltre il play-off Scudetto e la semifinale di Coppa Italia, e quest'anno la Grisimora Reggio Emilia è al secondo posto in classifica, quindi sta facendo un campionato strepitoso, solo l'Olimpia Milano la precede, e ha anche buone chance, noi ci contiamo, di competere per la conquista della Coppa Italia. Ma non è solo questo, Pierpaolo Zucchetti è anche direttore e responsabile del quotidiano online 4minuti.it del settimanale Il Giornale di Reggio, nonché ex-rugbista, quindi un atleta, anche lui è un esperto di sport in generale. Ti ringrazio per l'invito innanzitutto, mi fa piacere essere qui, anche se non l'hai detto, avere dietro il cuore nerazzurro è faticoso, perché io sono un gobbo, come dicono gli amici nerazzurri, e quindi sono un Juventino sfegatato, ma apprezzo ovviamente Zanetti, che è qui dietro di me, perché è un grande campione, quindi lo sarà sempre al di là dei colori che ha portato, ovviamente. Ti volevo dire una cosa importante, la pallacanestro reggiana, ho incrociato le dita quando tu hai detto ambisce la Coppa Italia, perché bisogna sempre guardare avanti, aspettare, e non parlare prima, anche perché è un campionato di basket bellissimo, quello di quest'anno, ma molto impegnativo, bisogna guardare una partita dopo l'altra, e credo che la Coppa Italia sia un bellissimo obiettivo da raggiungere, noi siamo ancora in difficoltà, nel senso che non abbiamo ancora giocato con tutta la squadra completa, quindi siamo al secondo posto, ma ancora ci manca un tassello importante, che è Darius Lavrinovic, che non ha ancora calcato il parterre del Pallabigi, ma neanche di altri palazzetti italiani quest'anno, speriamo che possa calcarli presto. Perfetto, hai già anticipato uno dei temi di cui parleremo, naturalmente parliamo come al solito della nostra Inter, parleremo in generale del campionato italiano di calcio, perché come ha già introdotto Pierpaolo, lui non è un supporto della nostra beniamata, ma dell'avversaria più tradizionale, ma è uno sportivo, quindi come lo siamo anche noi, non è il primo gobbo, tra virgolette, che ospitiamo, anche dei bibilanisti, come li chiamano noi, abbiamo ospitato. L'importante è che siano figure di sport, della nostra città, noi siamo l'Inter che è di Reggio Emilia, per cui ci occupiamo dello sport anche di casa nostra, oltre che di Inter. Quindi introduciamo adesso il tema dell'Inter, del campionato di calcio, per poi tornare alla pallacanestro reggiana. L'Inter è tornata, quindi chiediamo un parere, come esperto di sport, di calcio, è tornata al successo, finalmente registriamo una puntata un po' più sollevati, perché voi non avete di questi problemi, ma per noi la vittoria è diventata purtroppo in questa stagione un fatto episodico. Questo credo che sia la terza vittoria dell'Inter di Mancini, quando c'è Mancini in campionato, un bel comunque rotondo 3-0 al Palermo, una prova anche buona, dal punto di vista del gioco, che sotto questo punto di vista dà un seguito alla buona prestazione che abbiamo avuto con Napoli in Coppa Italia, anche se purtroppo il risultato era stato negativo. Questo successo, tu non so se hai visto la partita, Pierpaolo, come giudichi questa prova? Se ci sono speranze per noi di poter risalire, in classifica, perché siamo decimi attualmente, e non parliamo più di terzo posto, che ha portato anche sfiga, possiamo dirlo, ma magari per riuscire a ciuffare l'ultima poltroncina, l'ultimo seggiolino, lo sgabellino per l'Europa, per l'Europa League, che dista adesso mi pare 6 punti, e con i nuovi acquisti, che non so se hai notato la prova, Brozovic in particolare, poi c'è stato Sant'Ono e Shakiri, mi pare che abbiano dato un buon contributo, è la svolta, possiamo sperare in qualcosa. Ma io credo che a Mancini bisogna dargli tempo, è un grande allenatore, è un allenatore che ha bisogno di lavorare, è una squadra che si sta trasformando, quindi io vedo un Inter che potrebbe tranquillamente arrivare ai risultati che tu dici, anche perché tra le righe leggo che il Milan non è in grado, a mio parere, di arrivare per ora, per come è messo adesso, a livello dell'Inter, come qualità e come allenatore soprattutto. Io sono un fautore del fatto che l'allenatore è fondamentale nello sport di squadra, nel calcio come nel basket è basilare, credo che l'Inter abbia trovato l'allenatore giusto, però, ripeto, a mio parere Mancini, per la storia che ha, ha bisogno di lavorare e quindi bisogna aspettare ancora un po' di tempo, però il campionato è ancora lungo e quindi sei punti non sono niente. Secondo me, gli acquisti ultimi, io vedo in Schachiri e Podoschi due acquisti strepitosi, li abbiamo visti subito appena entrati, anche loro sono appena arrivati, cioè non si può pretendere di avere tutto subito. È una squadra che ha avuto dei problemi e che però sta crescendo, credo che la sua avversaria principale, le sue avversarie principali siano il Napoli e la Lazio, a mio parere. Napoli e la Lazio, la Lazio è un po' in calando, quindi il Napoli ormai penso che se ne debba preoccupare più la Roma, che noi, cosa dici? Non lo so, il Napoli è una squadra strana, molto, molto strana, così come la Roma, sono due squadre che vanno a fasi alterne, sono due belle squadre, hanno due buoni allenatori, ma a mio parere non sono Mancini e quindi Mancini se lavora può essere il fattore in più dell'Inter, assolutamente, a mio parere. Assolutamente, anche noi siamo convinti che su Robby Mancini l'Inter debba costruire un progetto serio che tutto un po' sia basato su di lui, dovesse venire, per qualche motivo Mancini dovesse lasciare questo progetto, sarebbe veramente dura per l'Inter ricominciare. Secondo me abbiamo finalmente scelto l'allenatore giusto dopo Mourinho, dopo tanto tempo, perché abbiamo scelto proprio quello che l'aveva preceduto e che ha vinto con noi, sottolineiamo. L'allenatore che era stato anche in orbita a Juve, vero questo ti risulta? Sì, tra l'altro io quando parlavano di Mancini la vedevo molto bene la cosa, non ho mai amato Allegri, anche se come tanti juventini mi sto ricredendo, perché sta lavorando bene, ovviamente sta lavorando con una squadra che ha una grossa qualità a livello del calcio italiano, però mi piace come sta lavorando sia in Italia che in Europa, adesso è chiaro che i nostri obiettivi vanno un po' più in là, abbiamo avuto un sorteggio fortunato e quindi dobbiamo giocarcela adesso. Bene, senti allora, che cosa ci puoi dire soprattutto andando a un tema del campionato, quindi l'Inter fa piacere che tu la veda bene, sia ottimista, chiaramente ci vuole, diciamo anche i nostri amici, i tifosi, ci vuole pazienza, è chiaro che dopo, questa è la quarta stagione e con risultati deludenti dopo il 2011 quando siamo arrivati ancora a secondi in campionato abbiamo vinto anche lì un mini triplete, si diceva, mondiale per club, supercoppa italiana e Coppa Italia, da allora abbiamo collezionato nessun trofeo e zero titoli come diceva il nostro Murigno, abbiamo collezionato un sesto, un nono, un quinto posto e quest'anno al momento siamo al decimo, quindi più di tanto non ci si può aspettare, abbiamo un Europa League ancora da giocarci, affronteremo come un Celtic già dalla prossima settimana, ecco, prima di passare la domanda che devo fare, Celtic Inter è una sfida, come la vedi? Celtic Inter secondo me è una bellissima sfida proprio perché Mancini è abituato a lavorare a questi livelli e con queste partite internazionali, quindi può far bene, io vedo nell'Inter ancora dei limiti di formazione, ancora qualcosa da limare c'è, vedo dei giocatori che non sono a livello di Inter e quindi credo che ancora qualcosina ci sia da fare, però Celtic Inter, credo che il Celtic sia assolutamente, crociando le dita, toccati tutto quello che hai alla portata dell'Inter perché l'Inter, voglio dire, ha le qualità in difesa, centrocampo in attacco per essere più forte del Celtic, quindi secondo me col Celtic non è un grosso problema, il problema potrebbe essere più avanti. in effetti quello che è importante sarebbe vincere l'Europa League perché darebbe il pass addirittura per la Champions del prossimo anno. non male però in Europa League, non sarà facile. No, non sarà facile, a partire poi dalle altre italiane perché abbiamo Napoli, Roma e Fiorentina, quindi Torino magari al momento ci precede, in classifica comunque forse è alla nostra altezza, ma Napoli e Roma indubbiamente servono già loro delle ossidure, vedremo, comunque bisogna far onorare la competizione al meglio, probabilmente tu dici un giocatore che non sono da Inter può darsi che sia il reparto arretrato che magari ha qualche problemino, qualche problemino, ma dopo ne parleremo. Io voglio sapere, ma questo bisticcio tra la tua Juve e il Bibilan, cos'è questa cosa, queste linee oblique, dritte, cosa è successo? Secondo me sono assurdità, non so se hai ascoltato Caressa, visto che parliamo di colleghi quando ha raccontato la cosa, credo che siano polemiche assurde, non so dove volesse arrivare Galliani, anche perché un 3-1 è un 3-1, vuoi essere vinto 1-0 o un 3-1 è un 3-1. Poi credo che, vabbè, io sono gioventino quindi tengo ovviamente alta la bandiera della mia squadra, però credo che in campo insomma, le qualità tra Milan e Juve adesso siano, cioè le differenze siano grandi a mio parere, quindi non c'è storia, credo. Senti, quanto può contare avere uno stadio per la Juve? Quanto conta avere uno stadio di proprietà mentre l'Inter e Milan che sono due grandi storie, le altre due grandi storie che è il nostro calcio perché sono Juve, Inter e Milan, le tre, adesso la Juve è ancora grande, Inter e Milan al momento insieme, non so se fanno poco più dei punti che avete voi, in classifica, quindi si dice che la famosa Milano non è più da bere ma bisogna bere per dimenticarla quasi. Il discorso stadio può influire su questo divario che c'è? Credo che hai toccato il tasto, è proprio lì la forza della Juve. avere avuto un progetto dalla Serie B, ripeto, dalla Serie B e portato avanti uno stadio di proprietà a livello europeo e questa è stata la forza, la società, la serietà e la costruzione di un progetto. In pochissimi anni è tornata ai vertici del calcio nazionale. Tu come vedi il fatto che il Milan abbia presentato questo progetto in questa zona è tutto sommato ancora centrale di Milano mentre l'Inter rileverebbe almeno io voglio sperare che non so che tipo di accordo farà perché per avere poi dei benefici come anche la Juve bisogna essere proprietari dell'impianto quindi l'Inter rileverebbe San Siro. Tu come vedi questo progetto del Milan quello dell'Inter di riammodernare San Siro utilizzando cercando di incorporare l'area del trotto che è inutilizzata ricordiamo la proprietà SNAI da due anni il podomo non funziona da almeno un paio di stagioni e la chiusura del terzo anello con tutta una serie di lavori non semplici che diventerebbe penso un'altra area commerciale quindi 50.000 spettatori più o meno 55.000 terzo anello che diventa un negozio di ristoranti di questo genere più un'altra area per eventi e anche area commerciale credo quella del trotto come lo vedi tu? Vedo meglio il progetto nuovo del Milan perché credo che quello dell'Inter sia a rischio perché in Italia siamo aiutati a vedere dei buchi neri e credo che uno stadio meraviglioso come San Siro sia troppo grande per un progetto di questo tipo troppo costoso questo progetto capisco che ci possano essere dei soldi dietro ma non vedo così grandi possibilità economiche nell'Inter al giorno d'oggi per poter portare avanti un progetto del genere invece il progetto del Milan è più simile a quello della Juve e dipenderà molto da cosa farà Berlusconi probabilmente questa società ne venderà una parte la terrà tutta lui potrà portare avanti oggi in Italia è indubbio che ci sono problemi economici e quindi si fa fatica non a caso la Juve è prima in classifica e la società diciamo che ha costruito di più e quindi ha dietro un colosso e quindi può portare avanti un progetto di questo tipo Inter e Milan saranno in grado di farlo però è la strada giusta l'idea della Juve all'inizio i detrattori dicevano ma fa uno stadio piccolino invece la forza è stata quella di investire su una cosa piccola con umiltà è diventato una bomboniera piccolina un gioiellino comunque 40.000 spettatori un po' come sono gli impianti inglesi perché quella capienza è quella d'altra parte ricordiamo che non ha mai avuto a parte magari super super big match se no la Juve al massimo arrivava a 15-20.000 spettatori quindi era creare una cattedrale nel deserto oggi infatti anche in termina concepiscono impianti di una capienza molto più limitata rispetto a quella che è San Siro tant'è che San Siro lo vediamo fa tristezza insomma perché adesso andiamo dai 20-30.000 35.000 a seconda se le squadre tirano un po' di più un po' di meno e magari dell'avversario fa tristezza vederlo così vuoto col terzanello chiuso a parte i settori dedicati agli ospiti beh va bene quindi va bene ok noi siamo messi meglio come allenatore siamo messi meglio mi passo di capire come squadra possiamo avere un buon futuro cioè un futuro migliore dei cugini a questo livello cioè nell'immediato però il progetto Milan è più interessante a livello di stadio vediamo un po' come va a finire in effetti qualche preoccupazione non ce l'abbiamo perché il Milan ha uno svantaggio grosso che non ha l'allenatore oggi e quindi giocare a calcio senza allenatore si fa fatica allenatore può si trovare intanto vogliono prendere il vostro ex Conte perché ci stanno facendo un pressing quello è un allenatore non è indifferente poi Montella che anche lui non è male no assolutamente però credo che Conte potrebbe essere la via giusta vedremo se succederà questo noi speriamo di no speriamo di no diciamolo però insomma l'allenatore si può trovare capito il progetto dello stadio secondo me sul progetto stadio si gioca molto nel futuro se si vuole tornare a essere top club e se noi l'Inter si pianta su questo aspetto noi siamo un po' preoccupati noi siete molto molto più avanti perché ve lo state già godendo da due o tre anni bellissimo non so se sei mai stato è uno spettacolo meraviglioso perché è organizzato proprio su stile inglese veramente si assiste a uno spettacolo e se vuoi ti introduco io un argomento perché il livello stadio è quello che manca alla pallacanestro reggiana cioè palazzetto e quindi questo è un argomento caldo che invece c'entra con la pallacanestro le strutture in Italia siamo un paese un po' obsoleto e quindi dobbiamo rimodernare molte cose e Reggio Emilia probabilmente è la città che ha il palazzetto dello sport più obsoleto d'Italia a livello di Serie A Assolutamente adesso spostiamo dato che abbiamo tolto il tiro sulla pallacanestro reggiana magari su questo tu sei informato di noi comunque intanto gli amici che ci seguono che non sono di Reggio Emilia magari l'argomento è un po' meno interessante però non relativamente perché poi un problema di impiantistica sportiva esiste un po' dappertutto perché anche a Milano c'è questo il palalido che non si capisce che fine fa per esempio adesso c'è un problema di stadi nuovi per Inter e Milan quindi è un problema che riguarda un po' un po' tutti questa partita del Pala bella comunque la postata di Facebook di Riccardo Cervi che è il centro della pallacanestro reggiana che c'era un post con la foto di una bella Pala perché appunto adesso con la nevicata che c'è stata si parla tanto di Pala ha messo lui puntini puntini questa come l'hai vista ti è piaciuto? No ma Riccardo è simpaticissimo quindi è un ragazzo simpatico e quindi è una battuta molto bella noi abbiamo bisogno proprio del Pala ma io poi sono informato come te nel senso che leggo e ascolto quello che si dice in città da quello che ha dichiarato l'Andia ha dichiarato il sindaco ci sono allo studio ovviamente dei progetti io spero proprio che si riesca ad andare in porto anche perché il nostro palazzetto dello sport veramente ha bisogno di essere rimodernato o chiuso se ne farà un altro ovviamente abbiamo una società forte che investe molto una bellissima squadra che ci sta dando delle grandi soddisfazioni ma soprattutto un palazzetto dello sport serve a una città perché non serve solo alla pallacanestro reggiana serve ai giovani serve alle scuole serve a fare i concerti è sinonimo di ricchezza anche culturale oltre che sportiva di una città a mio parere sono d'accordo infatti come diceva sempre il patron Landi non va vista questo non è solo un impianto della pallacanestro reggiano ma va vista in un'ottica decisamente decisamente più ampia come in fondo anche un impianto come può essere il West Ventus Stadium il San Siro che diventerà magari interisto quello del Milan possono servire per eventi per tantissime altre cose bene bene ma adesso tu devi fare una cosa perché non è quello che fa impazzire quando sono scusate un po' di il tempo il tempo produce raffreddori e tosse un po' di queste malattie anche seguire l'Inter il freddo di San Siro che una volta era gelante l'Inter fa venire un po' di tosse senti ma io mi impazzisco quando ci sono le triple che allora Pierpaolo parte e come dai faccelo questo qua fai conto che abbia segnato adesso una bella tripla D adesso devo farlo piano perché se no il microfono non tiene ma è questa cosa della bomba perché poi bomba è nata due anni fa così mi è venuta l'idea di fare questa cosa della bomba all'inizio dicevano ma Reggio Emilia dicono bomba adesso lo dicono anche in altri palazzetti e quindi quando Diner fa il suo tiro da tre ovviamente bomba Drek Diner boom boom e il palazzetto ovviamente segue bellissimo questa mi è piaciuta tantissimo ecco adesso tu fai conto invece di essere San Siro so che per te è difficile pensa di essere un tifoso nerazzurro tu sei lo speaker ha segnato Mauro Riccardi come me lo fai? beh vabbè lì nel calcio è bello il momento del gol e quindi Maurito e la risposta del pubblico Maurito Maurito però Icardi va via quindi mi sa che voi lo farete ancora poco eh non facciamo in tempo ad avere qualcosa di bello che già ce lo portano via perché tu spiega perché Icardi va via c'è qualcosa che non va o no? allora c'è qualcosa che non va allora intanto qualcosa che non va è che sicuramente quest'anno l'Inter non va in Champions League o sicuramente sono stato un po' negativo abbiamo ancora un'Europa League da giocarsi se la vinciamo però diciamo che non ci sono tantissime chance che noi giochiamo alla Coppa più importante e dovremo sudare parecchio per recuperare una posizione per entrare nell'Europa più piccola l'Europa League quindi questo è uno dei primi motivi perché Ausilio è stato chiaro ma lo immaginiamo tutti se non c'è l'entrata della Champions bisogna sacrificare un big ai big si fa presto individuarli al momento sono Vandanovic Icardi Kovacic se vogliamo considerarlo tale anche Guarin che ultimamente sta fornendo ottime prestazioni per Icardi anche ieri sera guardavo un attimo Sport Italia si è fatto zapping c'era una sovrimpressione che diceva offerta a Manchester United 40 milioni tu 40 milioni per Icardi cosa fai? ma credo che sia un po' alto il valore però secondo me Icardi appena sono arrivati Shakiri Podoski ha detto vado via Icardi è uno che ti fa gol però probabilmente non va bene per lo spogliatoio di Mancini quindi secondo me Icardi a parte gli scherzi all'Inter può dare meno che altri giocatori io credo che sia meglio puntare più su Guarin sui nuovi acquisti ecco Kovacic magari un livello un pochino inferiore Kovacic ecco hai toccato un tasto Kovacic ha grandissime potenzialità tecniche ma se avesse la possibilità per dire che ha Pogba è la personalità che non spunta fuori io le devo oggi ecco te lo faccio aprire a te guarda questo onore vai a pagina dove c'è scritto lì che c'è l'Inter a pagina 12 non so più avanti vediamo poi lo facciamo inquadrare dopo siamo andati forse un po' troppo avanti vediamo vediamo ecco Inter intanto giriamo pure girala pure che la mostriamo la chiudiamo ecco ma qua soprattutto facciamo inquadrare a Carlo c'è questo argomento di tanto di Guarin e Hernanes perché Guarin da riserva con Mazzari passato come una pedina insostituibile parte sempre dal primo minuto con Mancini noi alla Juve l'avremmo voluto eravamo quasi riusciti a prenderlo a costo zero ma poi i tifosi si sono lamentati meno male che noi siamo stati importanti quindi i tifosi contano amici perché noi siamo sempre la base e Hernanes che era intoccabile era stato è tuttora l'acquisto più costoso dell'era a Toir è finito in panchina e quindi questo è un argomento ma poi soprattutto se guardiamo qui in fondo c'è una foto con Mancini con suo figlio perché c'è stata un amichevole a piano gentile aperta solo alla stampa però normalmente non le facevano vedere neanche ai nostri colleghi diciamo così e c'è una foto di Mancini con suo figlio perché abbiamo fatto un amichevole contro una squadra lungherese in quale gioca mi pare sia Filippo Mancini e abbiamo fatto due a due hanno segnato Hernanes su rigore diciamo le Puskas per noi ma qui dice che Kovacic ha fatto una partita veramente brutta dove sembrava quasi rassegnato perché ultimamente un po' non è il partito titolare nelle ultime due partite quindi cosa tu mi dici di un atleta a grandi mezzi tecnici e all'Inter da due anni perché era il gennaio 2013 si tratta Kovacic ma poi era uno di quei problemi che dicevo sono quei giocatori che andava dato via prima ti accorgi subito che il valore non è quello a mio parere ce ne sono altri a mio parere One Jesus ci sono giocatori che non sono da Inter vanno bene possono giocare tranquillamente nel campionato italiano però se l'Inter ambisce a qualcosa di più secondo me bisogna andare a comprare Shaqiri Podoschi questi sì che funzionano a mio parere poi voglio dire l'attacco dell'Inter c'è perché Palazzo è un giocatore che può dare ancora tanto a mio parere bisogna però puntarci non si può io lo dico l'anno scorso due anni fa Palazzo è il mio giocatore del mondo e adesso non lo è più è un giocatore su cui si può puntare secondo me bisogna lasciar lavorare Mancini perché sa il fatto suo certo io devo dire che mi è piaciuto fino ad oggi il lavoro poi tra l'altro Mancini rispetto a Mazzari a volte si dice ma perché ha fatto meno punti a loro tanto voleva Mazzari beh c'è una grossa differenza adesso che giochiamo a calcio ci proviamo a giocare a calcio a volte giochiamo a calcio magari qualche volta ci siamo riusciti meno con Mazzari eravamo rassegnati giocavamo sul primo non prenderle per andare in contropiede poi le prendevano lo stesso è una squadra ansiosa insicura cerca di trasmettere qualche cosa se è un altro punto ripeto cerca di arrivare al risultato assieme al gioco ma l'altro aspetto è che lui si assume le sue responsabilità perché Mancini mentre Mazzari non ha mai sentito ammettere una colpa qualche cosa Mancini ha detto per esempio nella sala stampa qui del Mappei Stadium dopo l'Infaust Sassuolo Inter ha detto le responsabilità sono mie cioè quello che è successo prima di me non c'entra nulla un allenatore che si lamenta sempre e un altro invece che si prende responsabilità quell'altro si lamentava e basta quindi non si può solo lamentarsi bisogna far vedere alla squadra che c'è qualcuno dietro che puoi guardare avanti con ottimismo con voglia di fare volere potere è un allenatore che ti può dare la forza mentale di arrivare a un risultato abbiamo visto squadre inferiori all'Inter che hanno fatto molto di più perché hanno lavorato molto bene di squadre di spogliatoio quindi si può fare assolutamente e tra l'altro altra cosa che ha detto abbiate fiducia in me cioè ha detto dopo queste tre sconfitte consecutive Torino e Sassuolo in campionato Napoli in Copital ha detto fidatevi di me del mio progetto quindi ci ha messo proprio la faccia certo io credo che abbia incontrato un Sassuolo che in questo momento è la squadra più in forma del campionato secondo me ha incontrato un Napoli che ha giocato come sa perché una partita su tre la fa buona e ha fatto proprio quella lì buona e quindi il Torino è in crescita spaventosa sembra di vedere giocare squadre effettivamente ha incontrato tre squadre che sono rodate che hanno giocato un calcio perfetto in queste partite quindi l'Inter non è riuscito a contrastare ma è stata anche un po' sfortunata perché l'ha trovata in giornata clou infatti noi affrontiamo sempre gli avversari nel loro momento migliore e questo ha un significato e non c'è poco da fare bene intanto ricordiamo che siamo qui e ci vedete che siamo belli ma non siamo magari così belli come la Martina come la Francesca come altre ragazze che ci hanno aiutato nella conduzione di queste puntate perché purtroppo doveva esserci Martina oggi ma ha avuto un incidente mentre ci doveva raggiungere niente di serio niente di grave ma quanto basto per impedire di essere qua in questo momento però abbiamo un fustacchione per il pubblico femminile come Pierpaolo che è tra l'altro ex-rugbista se non ricordo male giusto? Sì sì ho giocato un po' da ragazzo diciamo poi io ho seguito sono stato addetto stampa del rugby reggio per tanti anni quindi ho seguito tanto il rugby anche perché è uno sport che mi piace tantissimo e per me forse è lo sport che racchiude di più i principi sportivi veri e quindi il rugby è uno sport che educa anche tanto e quindi consiglierei alle famiglie anche se le mamme hanno paura a mandare i ragazzini a giocare a rugby perché dicono che si fanno male invece è uno degli sport in cui c'è più rispetto verso l'avversario che esistono quindi il rugby è veramente uno sport che educa divertente un po' difficile come regole per chi non lo conosce ma poi imparandolo un po' diventa anche entusiasmante esatto ormai siamo nel pieno delle sei nazioni l'Italia ha già debutato male diciamo purtroppo speriamo che si riprenda intanto facciamo un in bocca al lupo al rugby reggio che è comunque nella serie A del campionato nazionale e ricordiamo che siamo qui da Vap e Smoke il nostro partner e tra poco presenteremo anche la bellissima titolare del negozio che darà qualche spunto sulla sigaretta elettronica perché qui abbiamo un fumatore mi dicevi prima che tu non fumi più sigarette ma cosa fumi? io ho smesso di fumare sigarette nel 2000 no fumo qualche toscano ma poca roba adesso mi farò dare un sigaro elettronico così smettiamo anche questo esatto un sigaro elettronico perché poi sentivo indagando nel pubblico femminile vieni vieni devi venire un attimo che porta porti intanto una sigaretta o un sigaro elettronico esatto per il nostro un assaggio perfetto poi finisco di rispondere sul discorso di Cardi il primo motivo è se non troviamo il tempo il secondo motivo può darsi ecco facciamo spazio alla titolare di Vap e Smoke alla Daniela quindi qualcosa di femminile abbiamo anche se non abbiamo le nostre vallette anzi forse è meglio la Daniela le nostre vallette grazie questo è un sigaro elettronico un usegetta e non devi ricaricare né come batteria né come liquido è un omaggio che ti facciamo questa sera se all'inizio sì visto che ho sentito che fumi il sigaro va bene grazie sono 700 tiri è solo 700 euro no 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 è anche molto economico costa 19 euro bene bene grazie mille poi ci fai sapere mi aiuta a smettere anche il sigaro grazie a te bene grazie a te beh adesso accomodoti anzi ti lascio il posto dai accomodoti un attimo per questo finale di puntata se vuoi nel pub ecco sì io ti lascio ecco tieni un attimo questo quando abbiamo qualcosa di bello facciamo inquadrare a Claudio finalmente una gazzetta del lunedì che poi noi intervisti abbiamo potuto leggere un po' più rilassati con piacere con un bel titolone Inter gol a ribelli il card di Guarin dalla polemica nei tifosi al trionfo perché sono stati due gol di Icardi con due assist di Guarin e un gol di Guarin allora come interpreta questi gol ribelli ribelli perché proprio qui nella nostra Reggio Emilia c'è stata questa contestazione questo bisticcio tra la curva la curva nord dell'Inter e i card di Guarin tu l'hai seguito questo sì sì l'ho seguito anche lì bisogna che che Mancini lavori bene probabilmente i card non non sta bene dov'è e quindi come dicevo prima se c'è una buona offerta se non è un giocatore che può portare bene lo spogliatoio anche se fa gol è meglio che vada via perché la squadra deve lavorare bene con quello che ha probabilmente lui non è adeguato per questa squadra a mio parere non va bene dal punto di vista caratteriale come giocatore è indiscutibile infatti anche questo bisticcio mi ha lasciato perplesso quando perché insomma la prestazione della squadra era stata poco veramente poco soddisfacente qui con il Sassuolo e quindi il malcontento di tifosi che hanno ritirato le maglie che ne hanno tirato con ci poteva anche stare un professionista che è molto ben pagato deve anche mettere in conto che ci sia una contestazione da parte del pubblico bene però Icardi i gol li fa è un gran centravanti certo partecipa il problema penso che è messo a fuoco come sentivo anche dai nostri colleghi nelle valli tavole rotonde nelle tv partecipa poco alla manovra non aiuta la squadra a salire non difende il pallone insomma lui in centravanti era la vecchia maniera la buona insegna come era magari Riva che aspettavano il pallone e lo buttavano dentro ne tocca pochi dei palloni io mi ricordo la partita con la Juve ahimè ha toccato un pallone ha fatto un gol quindi però questi sono anche i campioni quindi può far comodo ad altre squadre l'Inter ha bisogno di gente che lavora torna difende centrocampo attacco ha bisogno di gente che lavora tanto Pogba Vidal questi sono i giocatori scusa se insisto ma sono il motivo per cui una squadra è forte bene allora prima di arrivare ai pronostici della palestra reggiana Atalanta-Inter mi dici se il mercato chi ha fatto il mercato migliore se hai un'idea in questo senso e poi secondo te l'Inter allora chi prenderà se perderà quello che è l'asse portante la squadra mi ricordo fin da bambino si costruisce sul portiere e sull'attaccante sul centravanti noi avevamo due big in questo senso Andanovic e Icardi probabilmente partono tutti e due per vari motivi secondo te ma non so chi prenderà l'Inter però a questo punto l'Inter ma sul mercato non c'è tantissimo adesso per poter competere probabilmente conviene aspettare anche perché ci sono voglio dire il secondo portiere dell'Inter può benissimo stare in porta perché no potrebbe farlo secondo me l'Inter ha i centravanti in Palassio che può fare ripeto quello che dico che ho detto prima ha comprato dei giocatori per me strepitosi perché Podoschi e Schiachiri per me sono giocatori forti e quindi mercato sinceramente ho visto un mercato triste ma veramente triste probabilmente non è più stato più scoppiettante non lo so io ho visto qui una Sampdoria fuori di testa nel senso buono della parola che è andata a prendere un giocatore che non aveva niente a che fare con quella squadra infatti si è visto subito cioè non basta prendere un etou per cambiare una squadra non ho visto grandi botte di mercato noi abbiamo preso Matri botta di mercato allucinante insomma probabilmente i soldi sono finiti assolutamente anche perché poi ci sono stati molti prestiti cose che verranno pagate dopo comunque noi interisti possiamo dire che abbiamo fatto un mercato buono perché sembra che i colpi li faremo vendendo Pogba noi e prendendo tre giocatori ottimi e noi vendendo purtroppo forse Icardi e Andanovic perché poi il problema di Andanovic è che non avendo rinnovato il contratto se dobbiamo perdere la zero nel 2016 ovviamente va sul mercato quest'estate speriamo anche che insomma in tutta questa vicenda di Icardi che anche l'Inter non abbia perso dei punti per questa vicenda di Osvaldo che forse aveva un po' destabilizzato vediamo comunque perdiamo l'asse portante però il mercato di questo inverno ci è piaciuto Brozovic promette molto bene Santon un ottimo ritorno un terzino in giro più tanto più forti non ne vedo e Shakiri stando molto bene tu mi hai nominato spesso Podoschi ve lo aspettiamo perché Podoschi ancora non ha è vero Daniele Podoschi che ha fatto Podoschi dimmelo tu cosa ha fatto Podoschi Podoschi è uno che può far tanto è un fortissimo giocatore non è Juan Jesus ecco io rispetto quelli sono sono ruoli diversi ma anche a me Podoschi su la carta piaceva molto però diciamo che forse quando non hai giocato molto sentito di condizione parti bene e poi dopo ti ingrippi lui ha andato bene le prime due o tre partite anche lui dovrà avere bisogno di tempo bisogna capire un po' cosa vuole l'Inter perché io non ho parlato di Medel per me Medel è un giocatore stranissimo non lo so quanto può dare all'Inter non potevamo ovviamente comprare 15 giocatori sono nel mercato di gennaio quindi vedremo quest'estate ci sarà ci sono anche degli italiani in Italia esistono è vero bisogna anche puntare poi c'è anche la primavera dove l'Inter di solito sforna anche prodotti interessanti ne avete una sassuolo insegna cioè l'Inter è una società che è sempre stata abituata a giocare con tutti i stranieri bisogna giocare anche con gli italiani ha giocato con il sassuolo e il sassuolo ha vinto perché? perché c'è una bella squadra ci sono dei giocatori italiani che valgono se noi non riusciamo a sviluppare i settori giovanili nel modo giusto l'Inter ha un ottimo settore giovanile e portare a giocare i giocatori italiani in Europa faremo sempre a livello scusato internazionale con le squadre nazionali non riusciremo mai più a arrivare a vincere arriviamo quarti quinti e sesti dobbiamo far giocare gli italiani abbiamo degli ottimi giocatori nascerà un nuovo buffon nascerà un nuovo baggio magari ci sono già certo tant'è che poi prendere gli stranieri per prenderli quando uno parla di Messi Cristiano Ronaldo ovviamente andando su dei nomi incredibili però insomma sui giocatori anche va bene Shakiri insomma di un certo livello ok ma se dobbiamo vedere giocatori con altri nomi non voglio nominare alcuni che sono nell'Inter o in altre squadre tanto vale provare a vedere i nostri ragazzi bene ma si può accendere questo ma lo prova direttamente lo facciamo vediamo un tanto come funziona vediamo aspira che bello è già andato ce l'hai un po' l'aspetto c'è l'aspetto di quei commissari di quei film noir polizieschi è buono anche io sento un aroma è vero si si lo puoi fumare ovunque negli ambienti chiusi al ristorante e usa e getta quando finisce 700 tiri te ne accorgi perché non tira più e poi lo butti quindi è molto pratico e comodo un po' come un calciatore lo usi lo sfotti un po' poi lo butti o l'allenatore non hai parlato della Roma come mai della Roma ma adesso mi ha parlato un po' di Inter e molto perché ovviamente la Coppa io sono romano però sono nato a Roma ma la Roma la tifo devo dire quando è in competizione con voi non so perché ma perché sono romano probabilmente come fai a saperlo dicono che è finita anche lì è presto insomma c'è ancora un po' da giocare è quello che si vede capito che fa intende quando una squadra gioca bene bisogna dirlo che la vostra purtroppo gioca bene la Roma invece ha qualche si inceppa un po' la macchina ti viene al di là del distacco da pensare che sia un po' improbabile un recupero poi insomma recupera sette punti a una Juve che va così in Italia è molto dura senti paracanestro reggiana allora abbiamo una trasferta in campionato a Pesaro che tra l'altro è stata raggiunta all'ultimo posto era al penultimo è stata agganciata quindi dalla caserta quindi piena lotta a Salvezzaro cosa facciamo cosa fa il basket è una partita delicata perché sono le partite più impegnative queste quando si va a giocare con l'ultima in classifica bisogna avere la testa sulla partita e quindi sta lavorando molto bene Menetti sta lavorando bene tutti attorno alla squadra è una società questa che ha curato molto l'aspetto dello spogliatoio della squadra quello che dicevo prima è un po' anche la nostra forza di là dei campioni perché comunque è una squadra ricca di campioni e secondo me Frosini Menetti e Fioretti stanno lavorando proprio su questo l'importante sarà avere a Pesaro la testa sulla partita ogni partita va presa nel modo giusto e Pesaro è difficile come giocare con Milano nella testa deve essere questo bisogna giocare dal primo minuto e non avere dei momenti di buio e quindi le qualità ci sono e quindi si può giocare tranquilli solo se ci metti l'impegno giusto è una partita delicata ma la vinciamo secondo te? non dico niente ovviamente ma sarò ovviamente non riesco ad andare a Pesaro invece sarò adesio a vedere assistere quindi senza urlare la Coppa Italia perché non sei tu lo speaker perché non sono io sarà lo speaker del palazzetto non so chi sarà non sanno cosa si perdono ma non ci ha provato l'Andi a proporti no no lasciamo lasciamo il suo io vado a fare lo spettatore Coppa Italia è sempre uno spettacolo divertente quindi e se c'è una bomba tu dalle gradinata urli boom 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 faremo un boom boom fortissimo assolutamente ce la facciamo in Coppa Italia superare perlomeno il quarto con Trento? ma le possibilità noi possiamo giocarcela con tutti quest'anno credo che sia la squadra più forte più forte che ci sia mai stata Reggio Emilia questa quindi possiamo giocare con tutti l'importante ripeto è giocare con la testa sull'obiettivo e non è facile perché poi noi siamo comunque una squadra giovane una società che non è Milano però possiamo assolutamente giocarcela la società e quindi il patron Landi il presidente hanno fatto tantissimo per costruire questa squadra è un regalo grandissimo per questa città Reggio Emilia ha una squadra a livello altissimo e quindi il pubblico è sempre presente c'è il tutto esaurito credo che visto che abbiamo parlato di palazzetto quando ci sarà un palazzetto nuovo faremo anche 5.000 posti bisogna avere fiducia in questa squadra fiducia in Menetti le possibilità ci sono non abbiamo mai giocato dicevo prima con la rosa al completo abbiamo ancora fuori uno dei nostri big mi pare che anche nella Coppa Italia Darius non ci sarà penso di no abbiamo fuori ancora uno dei nostri big Caukena si è appena ripreso da un infortunio credo che Lavrinovic però potrà essere utile successivamente anche perché il basket si gioca poi ai playoff il campionato e quindi bisogna essere pronti nel momento dei playoff in forma in quel momento ho visto una grande crescita anche Riccardo Cervi che per noi è un punto focale e quindi Riccardo sta lavorando benissimo credo che potrà essere un fattore in più insieme a Lavrinovic di questa squadra vai a leggere l'articolo che ho scritto lo dicevo questo aspetto qua bene metti tutti i fumi il tuo sigaro noi chiudiamo facciamo fare un bel pronostico no Daniele dove vuoi andare tra l'altro vedi che hai le spalle no? ci abbiamo Zanetti ma tu so che sei una fan di Sanremo tu avrai visto la puntata di Rissera c'era Zanetti come no? sei una dei pochi italiani che non guarda purtroppo mi spiace deludervi ma non hai visto Sanremo no ho sentito i commenti oggi su Facebook ho visto che era presente il caro Zanetti ma non il grande Zanetti caro grande Zanetti lo chiami caro ma perché c'è stato perché è caro per te no pensavo magari un rapporto di conoscenza ok allora Atalanta-Inter come va a finire? vincoli in nera azzurra sicuramente se lui sempre si sbilancia va bene vincoli in nera azzurra perché l'Atalanta la maglia è come la nostra nera azzurra non lo dico perché non è proprio un esperto di calcio la Daniela si intende molto di sigarette elettronico di calcio magari di moda anche di profumeria profumeria ha avuto un'attività molto intensa in quel senso Atalanta-Inter sono tutti con la maglia nera azzurra chi vince? chi vince? sicuramente l'Inter bene bene poi Pallacanestro Reggiana cosa fa Pesaro? vincerà vincerà sicuramente adesso toccatevi perché non vorrei mai scaramantiche ti veniamo a cercare se non va a finire così bene adesso io ripasso scusate qui davanti perché non c'è molto spazio dietro con la mia pancia no poi salutiamo insieme ma è la puntata finita Atalanta-Inter non manca il pronostico Atalanta-Inter 2-2 2-2 va bene un punticino speriamo che un punto fa aggressivi che dice noi speriamo qualcosa di meglio anche se un campo per noi non è facile ci vuole una buona Inter però Inter che ha giocato col Palermo in quel modo con Apoli ce la può fare un flash anche sulla Reggiana Reggiana Pontedera come va a finire diciamo che anche per gli amici di Reggio Emilia Reggiana insomma oltre il basket anche Reggiana Calcio quest'anno da soddisfazioni sta facendo un bel campionato dagli infortunati dipende dalla formazione perché Reggiana quest'anno è una squadra veramente forte e può giocarsela tranquillamente con Pontedera ci mancherebbe altro assolutamente ma non ho ho visto che c'erano delle problematiche di formazione non vorrei dire una stupidaggine di qualche infortunato speriamo di no adesso non sono le gazzette di oggi quindi se la squadra è quella titolare è un 1 fisso sicuramente sicuramente va bene cosa fa la Reggiana assolutamente condivido va bene allora io vi invito ci fai una bella fumata ci alziamo in piedi al centro mettiamo il nostro guardate che è fantastico sai che potresti anche girare un film io ti vedo bene sì 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 è vero è portato per il fumo del sigaro elettronico speriamo che non sia tutto fumo anche quello che ci hai detto al lavoro di Mancini allora vi salutiamo ci ringraziamo Pierpaolo di aver partecipato alla Daniele di averci ospitato di aver regalato a lui ma non a noi il sigaro quindi ringraziamo Claudio il nostro operatore ci vediamo quindi alla prossima puntata la prossima settimana sperando appunto di avere colto i tre punti a Bergamo e poi saremo anche la gireremo quando staremo per vedere Celtic Inter quindi il ritorno dell'Inter in Europa League speriamo bene incrociamo le dita i pronostici qua sono stati fatti e soprattutto tifate Juve quando giochiamo col Borussia beh questo vabbè lasciamo pure per Paolo questo forse ho lasciato perdere il campionato ha detto quando giochiamo col Borussia va bene adesso è un'altra competizione ci può stare giustamente ma tu hai dei dubbi che noi tifiamo per la Juve quando giochi in Europa no speriamo è l'unica squadra che è rimasta a quel livello va bene ok qualche dubbio ce l'abbiamo va bene un saluto ci vediamo alla prossima sempre Forza Inter arrivederci per la Juve per la Juve